Gentili telespettatori buona giornata, Vincenzo De Luca o meglio Enzo De Luca perché a sinistra hanno il vizietto di cambiarsi il nome, Vincenzo Enzo, Giuseppe Beppe, Rosaria Rosi, Elena Ellie e l'altro come si chiama, quello in Puglia, Nicola, Andrea, detto Nicky, a sinistra hanno il vizietto di cambiarsi il nome, chiamatemi Luke Skywalker, sono tuo padre, sottotitolo, va bene, quindi Enzo De Luca ha detto Vincenzo o Vincenzino, ve lo ricordate lo sceriffo che correva quando era arrivato il vaccino per il covid era corso a gambe levate per essere il primo a vaccinarsi passando davanti a tante persone che ne avevano diritto perché lui era il presidente della regione, in quella corsa gli è caduta la stella di sceriffo, lo sheriff della ciufola, bene, oggi attacca ancora Meloni però il giorno dopo perché non ha il coraggio di dirgli le cose in faccia, lui le dice dopo, le dice il giorno dopo e dice così, vediamo un po' se lo trovo, eccolo qua, dice di non aver sentito la Meloni che diceva sono l'astro della Meloni, lui non l'ha sentito, lui ha sentito solo presidente come sta perché alla fine la Meloni nella frase dice presidente De Luca della Meloni come sta, De Luca ha sentito solo come sta e lui ha risposto sto bene in salute e benvenuta, è benvenuta qua, l'ha sentito, non l'ha sentito? Magari non ci sente bene, che ne so, può essere, la Meloni parla veloce, dice non ho capito bene cosa ha detto, scusi presidente com'è che ha detto nostro parente, cos'è che ha detto? Va bene, e dice di aver appreso solo nel pomeriggio dai social di quello che aveva detto la Meloni perché era cominciata qualche metro prima ma non l'avevo sentito sinceramente e quando poi ha sentito nei video la Meloni, quello che dice De Luca, parla di raffinata eleganza con cui si era avvicinata al presidente della regione che era lì per accoglierla e darle il benvenuto, in ogni caso conclude ho visto che la Meloni ci ha tenuto a comunicare la sua nuova e vera identità e noi non possiamo che concordare, ovviamente, quindi dice si è autodefinita str, noi non possiamo che concordare ha comunicato la sua nuova vera identità e poi dice raffinata eleganza. Allora, lui può dire alla Meloni un insulto, quando la Meloni si autodefinisce riferendosi al suo insulto diventa raffinata eleganza. Insomma, capite che è la solita storia, io ti posso insultare ma se tu ti auto insulti riferendosi al tuo insulto allora diventa raffinata eleganza, perché lui poverino era lì solo per accogliere la Meloni e per dire benvenuta. Ecco, allora, la insulta, poi dice che va lì a Caivano a fare una passeggiata, una passeggiata alle salute, no? Ecco, la Meloni ha voluto sottolineare gli insulti che aveva fatto De Luca. Io ieri ve l'ho detto, personalmente io avrei risposto in un modo diverso, perché io sono poco politico. Io commento la politica ma sono poco politico. Se uno mi dice una parolaccia così, lo prendo sotto braccio e gli dico, senti Vincenzi, ti ricordi quando mi hai detto che sono un astro? Ecco, ricordati che qua, l'unico str... sei tu, sei tu l'unico str... tra noi due. È chiaro Vincenzi? Ti saluto? Ecco, io avrei detto così. Chiaramente è molto poco politico un comportamento di questo tipo, però io sono fatto così. Tu mi dici una parolaccia e io te ne dico dieci. E poi mi dici che io sono raffinato? Eh no, io ad accusa rispondo peggio. Eh sì, non sono quello che sta zitto, non sono quello che fa finta di non aver sentito, ma ti rispondo per le rime e ti rispondo in maniera molto più forte della tua. Poi può essere che non ti rispondo a parole ma ti rispondo anche in un altro modo. Capita. Insomma, ognuno è fatto a suo modo. Ma lui ha negato anche di aver detto che la Meloni sarebbe andata a fare una passeggiata elettorale a Caivano. Quindi lui ha negato di aver detto quella cosa, quindi non mi stupisce che dice di non aver sentito, perché lo accusano di essere rimasto senza parole e di aver detto benvenuta. Ecco, quindi lui si è sentito accusato di essere rimasto senza parole e dice di non aver sentito le frasi della Meloni. Insomma, diciamo che quest'uomo è molto poco sceriffo, fa tanto cabaret, fa i suoi video dove fa le sue battute, una sorta di comico, però spero che per gli amici napoletani il prossimo sia un vero politico, a parte che trovare veri politici oggi è un po' difficile. D'altronde quando uno vota le regionali cosa ne sa poi chi c'è veramente in quella persona. Diciamo che oggi questo presidente di regione vi fa fare delle figuracce tremende. Quello che veniva chiamato lo sceriffo in realtà è tutt'altro che uno sceriffo. Non ha nulla di sceriffo. Uno che corre a vaccinarsi perché lui è il presidente della regione vuole essere il primo perché aveva paura del covid vi fa capire che è l'opposto di uno sceriffo completamente. Grazie a tutti e arrivederci a presto.